Cambiamo argomento ma parliamo sempre di un'epidemia, questa volta da Xilella, il focolaio individuato in un vivaio di Canosa di Puglia è sotto controllo e la rassicurazione dell'assessore regionale alle politiche agricole donato Penta Assuglia al servizio. La notizia positiva è che il focolaio di Xilella individuato a Canosa di Puglia è sotto controllo e la rassicurazione dell'assessore regionale alle politiche agricole donato Penta Assuglia arrivata in risposta a una interrogazione presentata in Consiglio regionale e relativa alla diffusione del batterio nel paese a nord di Bari. Il focolaio è stato scoperto nel dicembre dell'anno scorso in un vivaio dove la sputacchina ha infettato piante di dodonea viscosa purpurea. È stato fatto un lavoro importante per la circoscrizione del focolaio attraverso la distruzione delle piante malate e il monitoraggio delle altre 5.000 che si trovavano nell'area in cui era stato scoperto il batterio. In nessuna è stata individuata la fitopatia. Fondamentale è stata la tempestiva azione di sorveglianza per cui Penta Assuglia ha ringraziato chi ha lavorato nella zona e le organizzazioni, gli imprenditori che con i propri tecnici hanno collaborato nel fare un'attività di monitoraggio del territorio palmo a palmo. Per l'assessore resta fondamentale nella lotta alla Xilella la collaborazione istituzionale ai vari livelli perché porta risultati.